Lo premiamo appena faccio questo. Partito. Poi lo tagli. Va bene. Così si legge qua il cimitero, lo tagli qua e lo fai partire. Ok. E cos'è che faccio? Tu metti i fumetti con scritto brisi? Un monte con questo lì. Sì, sì, tutti con le cose. Questo qua non ho ancora capito che curva è a gomito, a U, a qualcosa. E so che è strana. Ma per il sito di Montestella te ne ha parlato, sì? Sì, è una volta, ma non l'ho già visto. Ma dice che l'ha già fatto. Bisogna solamente mettere i contenuti. E per quello sono disponibili. Sì, anch'io, perché fare i siti... Anche quello della Locride, della Proloco, mi ha detto mettete più che potete sulla Locride. Quello della Proloco? Sì. Mi fa... sì, perché Elia... Va bene. Elia ha detto... Lui e altri due, cioè Montestella e tu, fanno queste cose, c'è filmati, riprese, foto di tutte le varie cose importanti del Pilaro. Lui fa... Eh, mettete più contenuti che potete della Locride in questo sito qua, turismolocri.it. Ah, ma della Locride, la Proloco della Locride? Sì, di Locride. Sì, di Locride. Loro che a me siamo in provincia di Reggio. Eh, allora Locride non è in funcione. Che cacchio, penso io. Ma dai! Da censurare qua. Sì, sì, lo sapevo, scertavo. Tu se stai paghi a scendere, dove vuoi andare? No, eh vabbè, giù. Comunque... L'ultimo comune di Reggio. Sì, di Locride, l'ultimo o il primo, a seconda cosa ve lo vedi. Eh, vabbè, ho sbagliato, dai, sono appena svegliato. È l'uno e un quarto e mi sono svegliato 45 minuti fa. Quindi? Località Lavaria Miniera. Sono andato là sotto e faccio la miniera. Niente, ma neanche la miniera. Ho accertato, può esserci un resto che è sempre... No, la miniera, la laveria. Ah, no. E che è... non lo so. Ok, Tommy. Gentilmente mettiamo la freccia. Questa zona si chiama Malikic. Mal? Malikic. Malikic. Eccolo un altro. Ah, ecco perché si era fermato. Ciao, ragazza! Ecco perché si era fermato l'altro. Perché sapeva che veniva. Vabbè, meglio. Adesso lo sappiamo superare. Sarà bellissimo il video. Ciao, Gaetano! E metterei il fumetto. Gaetano che porta il camion dalla mangiatorella. Ci sarà anche lui. Parliamo troppo. Non c'ho voglia di modificare. Togli l'audio e metti su me. Però qualcosa lascia. Vabbè, vedrò questa qua. Sarà sicuramente un po' video che si diceva. Eh, sicuramente. Poi questo può essere promozionale. Perché così la gente vede la strada che è per molte stelle. E' bella la strada. E' bella che stessa, no? Quindi ci vado. Possiamo andare. Quanta promozione faccio, mamma mia. Questo video è sponsorizzato dalla provincia di... E' bella l'Ocrite, sono sponsorizzato. Come no? Come no? La benzina la paga il comune di Pazzano. Una gamba. Mi buono! Questa è meglio della Google Card. E' la più pagata... E' la più pagata... Sai che sono passati di qua? Al Google Card? Sì. Ah sì? Sì. La vista Antoni. Cioè, gli hanno detto che l'hanno vista. E cosa? Stavano facendo... Sono passati da passati. Stavano facendo le foto? Eh, facevano il loro Google Card. Ah sì? Però non so cosa che si spiegheranno. Eh, mi stavano... Messo... Eh... Quelli passano pure... La strada delle quadri... Ma... Questa è ancora la Maledichia. Ok. Questa è arrivata... E' arrivata... E' arrivata... E' arrivata... a Caudà e Gia Rata quasi volevo dire però poi mettila eh, con la collaborazione con la cordiale di Yannetta Verlisi dovresti parlare anche su Lugatube come vuoi su Lugatube però io non ho messo no, metti collaborazione video Lugatube ho messo, mi sono iscritto un'altra volta si, si ho visto con il nome Rugatube eh, metti con la collaborazione di video no, l'altra volta eri era una collaborazione